Nicola Del Grosso è il nuovo DS del Montevarchi e la notifica è stata abbattuta sul sito della società poco dopo le 16. Si aspettava il semaforo verde d'Aliana che è arrivato nella tarda mattinata. Del Grosso torna dunque a lavorare in Val D'Arno dopo tre anni trascorsi a San Giovanni e un anno e mezzo a Terra Nuova. Uomo di calcio con grande esperienza, Del Grosso vanta una presenza consolidata nella quarta serie. Profondo conoscitore del calcio giovanile avrà il compito anche di dirigere non solo la prima squadra ma anche la Juniors nazionale degli Aquilotti. Ora la prima mossa sarà quella della scelta del nuovo allenatore visto che le indicazioni del DS saranno decisive. Scelta non facile ma Del Grosso non mancano le conoscenze per poter portare un tecnico all'altezza della tradizione aquilotta.